Cascana, 26 ottobre 1916, giovedì 5 di sera. Ero abituata al silenzio, ma questo che si è fatto da che sei partito è così grande. Stamane, dopo 12 ore di sonno al veronal, ti ho telegrafato sperando nella risposta, che non è ancora venuta. Mi han detto che ieri dovresti prendere una carrozza e che forse perdessi il treno delle quattro. Dove e come avrai dormito? E tutte le immaginazioni per seguirti oggi sono state vane. Fiorenzuola, alla casetta, ora che sta per tramontare questo sole pallido, avrà tirato un vento furioso anche sulla tua strada. Io mi son levata alle 11 e alle 3 sono andata al bagno, poi tornata subito qui. Mi han fatto a sloggiare dalla saletta da pranzo, mi han messo un tavolino qui, tra la finestra e il tuo letto. Così c'è un mutamento anche per me e la mia stanza somiglia di più alla tua. Dino, 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 dove sei? Voglio essere forte come mi hai chiesto, non voglio piangere, ma ho il cuore così gonfio. Quell'ultima ora, ieri, hai sentito come eravamo consacrati? Dino, vinceremo, amor mio, coraggio. Non so dire neanche per me altre parole oggi. Sono ancora così stanca, attonita. E tu? E tu? Quando saprò? Ho tanta paura che tu stia male. La casetta ora deve essere una tana. Dimmi, ti supplico, Dino, ma ho tanta fede. Com'è che ho tanta fede? Come il primo giorno? Che cosa vuole da noi il nostro amore? Ma hai detto che mi tieni, vero? Felicità. Ti bacio. Scrivimi. Se lavorerò, te lo dirò. E' arrivato il meta. Lo spedirò domani con la biancheria. Fatti dare delle uova, quattro al giorno. E manda a prendere la medicina fiorenzuola. E' vero che vuoi che ci ritroviamo belli? Tu, Arinetta. E' la prima volta che mi firmo così. Marradi. 27.30 ottobre 1916. Mia cara amica, sono troppo stanco e troppo ammalato per cercare di comprendere. Prendo il partito dei più deboli. Il mio solito partito. Parto. Regalo a chi ne ha bisogno quel poco di poesia che può essere sorta in te dal nostro amore. Non posso dirti altro dopo questo. Mia cara, sono realmente ammalato. Non ho potuto sopportare l'attesa e le tue lettere. Ricevo ora il telegramma. Parto domattina per la casetta. Là c'è il silenzio. Io ti amo tanto e rimpiango la poesia solo perché essa saprebbe baciare il tuo corpo di psiche e il tuo viso roseo e nero con la bocca sfiorita di faunessa. Perdonami se non voglio essere più poeta, neppure per te. Sai che neppure le acque e neppure il silenzio sanno più dirmi nulla e senti la mia infinita desolazione. Ti porto come il mio ricordo di gloria e di gioia. Ricorda quando soffrirai colui che ti ama infinitamente e porta per sé solo il tuo colore. L'ultimo bacio dal tuo dino che ti adora.